Sugar Pulp Festival dal 30 settembre al 2 ottobre a Padova. Abbiamo qui con noi Matteo Strucchul dell'associazione Sugar Pulp che ha da poco pubblicato un libro per la casa di triceo. A Matteo chiediamo di presentarci perché abbiamo visto che ci sono nomi enormi dei big di presentarci gli autori più grossi di questo festival. Io intanto ringrazio Radio Sherwood Blow Book naturalmente che ci ha sempre seguito con grande attenzione. I big sono stati Jeffrey Diver all'anteprima che non ha bisogno di presentazioni il 19 di settembre credo l'autore di thriller più venduto uno dei più venduti al mondo oltre 20 milioni di copie quindi maestro del thriller americano e in questi giorni invece avremo Joe Lansdale, Victor Gischler, Tim Willocks, Massimo Carlotto e Ian Valentin come grandi nomi della letteratura. Brevemente direi che Joe Lansdale è l'autore che come dire meglio di chiunque altro negli ultimi vent'anni di letteratura americana ha sviluppato una vera e propria letteratura pop americana partendo da Robert E. Howard l'autore di romanzi che hanno avuto come protagonisti Conan il Barbaro piuttosto che altri personaggi insomma molto molto importanti della letteratura cosiddetta fantasy e però lui è un autore prettamente pulp che frequenta anche generi come l'horror, come il noir classico, come il thriller, come la letteratura per ragazzi. Quindi in questo senso una grande capacità di mescolare e di affrontare tutti i generi. Sulla scia di quest'autore un altro grande nome è quello di Victor Gischler che è un autore indubbiamente più giovane che è stato definito un po' il re della new wave di questo nuovo crime americano che ha una scrittura molto veloce, molto cinematografica e anche sceneggiatore di fumetti di fumetti Marvel come X-Men e Deadpool e che riesce a dare un taglio molto fresco e divertente a romanzi poi in realtà iniettati di adrenalina quindi con un taglio legato anche alla commedia americana. Dopo di lui Tim Willocks, autore invece questa volta inglese anche se risiede in Irlanda grande potenza narrativa, grande capacità di frequentare il romanzo storico cito tra tutti Religion che attiene al racconto della conquista, anzi della battaglia e dell'assedio della città di Malta nel 1565 da parte delle truppe di Solimano il Magnifico e anche lui grande autore di thriller carcerari come il fine ultimo della creazione per arrivare a Massimo Carlotto, autore padovano, autore italiano culto di grandissimo successo in realtà l'unico a parte Umberto Eco ad essere finalista all'Edgar Award negli Stati Uniti autore di successi come Arrivederci a More ciao, Alla fine di un giorno noioso e tutta la saga dell'alligatore. Quindi direi un parco di big straordinario a questi si aggiunge anche Jan Valentin, protagonista del giallo thriller scandinavo autore di punta per Marsilio e quindi direi un incontro, un appuntamento in questa tre giorni assolutamente da non perdere vista la statura effettivamente dei grandi nomi coinvolti. Grazie a tutti!